Sono le venti e venti, questa RF 101 è che gran serata, come avviene sempre settimanalmente da una stagione che è iniziata a settembre che si concluderà la prossima settimana dopo questo iter un po' un tipo scolastico, nel senso da settembre a giugno che gran serata va in onda su RF 101, magari poi prenderemo anche la formula estiva dal chiosco Avana di San Leone ad Agrigento. Io vorrei ringraziare e salutare gli ospiti che ci propongono l'evento live, loro sono i Look Back in Angera, fatevi un applauso, buonasera, eccoli qua, insomma è partito anche il post produzione, ringrazio Adriana e Jessica che stanno procedendo in questo, siamo in diretta a Facebook sul mio profilo e quindi giustamente possiamo anche vivere e raccontare un po' di questi ragazzi ringraziando e salutando intanto Chiara Miceli, buonasera Chiara. Ciao Beppi. Ciao, ciao, e giustamente con te c'è un nugolo di uomini che ti segue, vogliamo dire i loro nomi e presentarli? Sì, certamente. Alla mia sinistra il bassista Alfonso Amato. Buonasera Alfonso. Alle mie spalle batterista nonché padre Valdomiceli. E non poteva che stare alle spalle per proteggerti, giustamente, e poi? Poi alla mia destra c'è il chitarrista Fabrizio Schifano. Buonasera Fabrizio. Oggi un po' non lo riconosco con la chitarra classica, a dire la verità. In questa veste, in questa nuova veste, diciamo, quindi salutiamo i nostri amici Look Back in Angera. Come mai questo nome? Chi ce lo spiega? Chi è, diciamo, il fautore? Come nasce? Diteci un po' perché è venuto fuori questo nome. Il nome lo ha messo il nostro amico. Allora, facciamo una cosa. Possiamo anche aprire il microfono, magari se Fabrizio si avvicina, così almeno parliamo anche di questa band. Apriamo anche questo nostro microfono, così... Ecco, perché Look Back in Angera? Il nome l'ha messo il nostro amico tanti anni fa, perché la formazione del gruppo risale all'incirca al 1987. 87-88, questi sono stati gli anni. Gli anni che hanno creato la band, insomma, ti avvicino io col microfono, ok? Ha preso il titolo da un'opera teatrale, di uno scrittore inglese, credo, degli anni 60, una cosa un po' particolare. In effetti è particolare, non è un nome, come posso dire, comune, no? Sì, tradotto in italiano significa voltarsi con rabbia, oppure pensare al passato con rabbia, una cosa del genere, diciamo. Dare una svolta però con rabbia, con quella stizza, ecco, perfetto. Quindi una band che nasce, hai detto prima, nell'87. Nell'87, sì. Però nell'arco del tempo è cambiato un po' tutto, probabilmente. Quasi tutto, non tutto, perché dei membri originali di quel periodo siamo rimasti io e Alfonso. Ah, ecco, quindi Reduci e... Siete usciti Reduci, ma perfetti. Perfetto, c'erano altri due nostri amici che anche loro hanno fondato il gruppo, soprattutto loro, specialmente il cantante Fabrizio Tagliareni, che purtroppo non c'è più, e il nostro grandissimo amico fraterno Paolo Marchica, anche lui purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Eh, vabbè. E comunque abbiamo continuato. Nei vari anni ci sono stati vari componenti che abbiamo cambiato, ora da un bel po' che abbiamo il nostro validissimo baldo alla batteria, e da tre anni, quasi quattro, quasi quattro, Chiara che ha iniziato con noi quando era minorenne, adesso è da poco maggiorenne. Insomma, cresce anche lei, cresce bene con la musica. Sì, 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 è una rocchettara proprio di quelle giuste. Rocco, il termine esatto che hai detto riguardante la vostra band. Sì, la nostra band è Rocco. Tra l'altro abbiamo anche un repertorio di pezzi nostri, che stasera ne proporremo uno soltanto. Speriamo qualche altra volta di vederci col nostro repertorio. Queste tue parole mi piacciono e mi danno anche aiuto, perché insomma vuol dire che ci credete anche alle radio, ed è importante, io lo dico sempre a tutti quelli che praticamente, insomma, nel nostro territorio fanno musica. La radio è importante proprio per farsi conoscere, promuoversi e dare alla gente anche la sensazione che dietro degli strumenti suonati ci sono anche delle persone umane che hanno delle grandissime qualità e doti. Io mi dispiace dare le spalle, però insomma, ok, abbiamo scambiato due chiacchiere. Vorrei fare un'altra precisazione. La band, vi metto che è agrigentina, in realtà la band è impedoclina. Anche se tre componenti siamo agrigenti, ma io sono mezzo marinisi pure io ormai. Certo. Però la band originariamente è nata a Porta Empedocle. Ecco, nasce a Porta Empedocle. Zona pieno lanterna per la precisione. Per la precisione, ma l'evoluzione ha voluto che adesso la maggioranza fosse di agrigento. Sì, adesso diciamo. Dobbiamo essere anche chiari in questo e quindi si mantiene giustamente questa coesione agrigento-Porta Empedocle. Probabilmente siamo una delle più vecchie rock band della zona dell'agrigentino, non vorrei dire, ma... Potrebbe, anni 80. Tenuto conto del periodo in cui abbiamo iniziato. Sono oltre 30 anni, quindi ci sta tutto. E allora, a proposito di questo, vogliamo anche tastare il polso a questi quattro giovani che praticamente ci faranno sentire un primo brano. Chiara, con che cosa iniziate? Iniziamo con un pezzo di Bruno Mars molto conosciuto. Look Out of Heaven. Ecco, loro sono i Look Back in Anger. Li sentiamo a che gran serata su RF101. I never read my tears The left on miracles I never put my heart Of faith on the line The swimming in your water Is some spiritual I'm morning and every night I'm fading the night Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise I'm so gay Cause you make me feel like I've been locked up in my heart For a world to love For a world to love Yeah, you make me feel like I've been a flower heaven For a world to love For a world to love You bring me to my knees You bring me to my knees You make me testify You cannot make a sinner change his ways Open up your gaze Cause I can't wait to see the light And there's a reason where I want to stay Cause your sex takes me to paradise Yeah, your sex takes me to paradise Cause I'm so gay Cause you make me feel like I've been locked up in heaven For a world to love For a world to love Oh, to love Oh, to love Oh, 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 oh Hey, yeah, yeah Can I just say Spend the rest of my days Oh, 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 oh Hey, 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 hey Can I just save me? Spend my rest of my days Could you make me feel like I'm just a heaven For too long For too long Yeah, you'll make me feel like I'm just a heaven For too long For too long Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, 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 oh Oh, oh, oh. È appena finito l'intervento dell'attualità con alcune notizie che vi abbiamo fornito. Sono le 20.36. Questa è che gran serata su RF101, l'appuntamento del mercoledì, il salotto radiofonico del Bepi con la regia di Mediagostino, la produzione di Adriana Russello e Jessica Sanmarco per quanto riguarda le dirette Facebook, il posto di produzione che realizziamo poi di volta in volta. Bene, con noi ci sono il Loopback Ninja, questa band diciamo per metà di Porto Empedicole ma anche per metà agrigentina o comunque se vogliamo dire comunque agrigentini in genere che ho il piacere di farvi sentire, di raccontare, di conoscere meglio perché insomma diceva prima il nostro amico Sifano che sono oltre 30 anni di carriera per quanto riguarda il gruppo, però vorrei anche far sentire la voce di Chiara che la sentiamo cantare, l'ultima arrivata quindi la giovanissima che vorrei mi spiegasse com'è che ha abbracciato il genere rock, cioè cosa ti ha stimolato, cosa ti ha portato a cantare il rock? Diciamo che sono nata con questo genere avendo un papà così Quindi a casa per forza di cose non sentivi? No, a casa mia non sentivo Gigi D'Alessio ma sentivo a CDC Gli CDC, quindi sei cresciuta con il rock dentro che penso ti sia piaciuto, alla fine vuoi o non vuoi ascoltandolo La mia musica E la tua musica ed oggi insieme al Papi e gli altri due amici ti fai insieme a loro Tra l'altro noi stiamo sentendo anche dei brani che sono diciamo in un certo quel modo molto radiofonici, molto commerciali proprio perché appunto dobbiamo anche capire le tecniche del vostro far musica come in questo caso, adesso noi andiamo a sentire cos'altro? Adesso andiamo a sentire un radio più che radiofonico un radio, un brano scusate, non Ruz Ok, quindi vi lasciamo ancora con il Look Back in Anger qui a Che Gran Serata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti